È una tragedia immane, non si può morire così giovani sul lavoro. Sono cariche di dolore e commozione le parole del sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, tra i primi ad arrivare a Racciano, dove un 31enne molto conosciuto della zona ha perso la vita. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato da un muro portante. L'incidente avrebbe coinvolto anche un'altra persona, che fortunatamente avrebbe riportato solo delle lievi ferite. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi con il Pegaso, oltre ai vigili del fuoco e al personale della prevenzione, igiene e sicurezza. Ma purtroppo per il lavoratore, che operava nell'impresa di famiglia, non c'è stato niente da fare. È un momento difficile, sono toccato personalmente da questa tragedia, ha detto sempre il sindaco Marrucci. Questa ennesima morte bianca arriva alla vigilia della giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I numeri, che l'Asla Toscana Sud-Est ha diffuso, mostrano un bilancio fra luci e ombre. Infortuni sul nostro territorio sono infatti tornati ai livelli pre-pandemia.